mi sono impegnata tantissimo so che ce la posso fare io voglio la finalissima allora giudici meditate Junior Bake Off Italia questa sera alle 21.10 su Real Time Canale 31 auguri quando arrivano le feste cosa preparo io per il pranzo di Natale la ricetta migliore è passarla in famiglia spero che i miei parenti apprezzino e allora vi aspettiamo per questo Natale con Benedetta ricetta in famiglia questa sera alle 22.10 su Real Time Canale 31 Buon Natale Snoopy inizia il weekend in casa Real Time e fervono i preparativi per il Natale fatevi ispirare dal talento dei giovani pasticceri di Junior Bake Off Italia e poi seguite le ricette per un perfetto Natale in famiglia con Benedetta Parodi e per chiudere in bellezza un giro in carrozza per raggiungere il castello del boss delle cerimonie Panettone o Pandoro? Panettone e Pandoro Grazie a tutti! Grazie a tutti.